No, assolutamente non è una provocazione. Dobbiamo considerare che le informazioni stanno crescendo in maniera molto esponenziale fino a poco tempo fa. Oggi in 12 ore generiamo la stessa quantità di informazioni che sono state generate dall'inizio di internet fino a circa il 2005. Quindi i volumi sono cresciuti in maniera esponenziale. E questo di fatto consente e dà l'opportunità di andare ad agire su tutta una serie di dati che prima adesso erano quasi non utilizzati. C'è la possibilità di andare ad agire tutta una serie di nuove tipologie di dati e di informazioni, quali i mail, i video, gli audio, che fino a poco tempo fa non erano assolutamente utilizzati. C'è anche un discorso poi di velocità del dato. Il dato cambia notevolmente e la validità del dato decresce e decade molto velocemente. Basta che pensiamo a tutto il discorso legato ai social media. Un Twitter è valido adesso, fra un'ora o due ore non ha più senso e non ha più validità dell'informazione. Le email, i dati non strutturati, dobbiamo cominciare a estrarre valore e concetti da questa tipologia di data. La governance dell'informazione ovviamente non può fare altro che attingere e ereditare tutte quelle che sono le informazioni nuove che stanno aggiungendo rispetto al termine dei big data. Quindi stanno arrivando dei dati che sono molto dinamici, sono moltissimi dati e quindi la governance dell'informazione non può non tenerne conto. Fino adesso è stata l'applicazione che in qualche modo ha governato il dato, mentre con l'avvento dei big data il dato e l'informazione è diventato centrale rispetto all'applicazione. Quindi è intorno all'informazione che si costruiscono i dati e questo ovviamente nel processo di governance non si può non tenerne conto. Quindi dall'origine del dato fino alla sua dismissione. Quello che sta succedendo è che spesso e volentieri le enterprise non attingendo a tutte quelle che sono le informazioni non strutturate tendono a mantenere tutti i dati, a mantenere vive applicazioni anche se non sono più utilizzate perché ci potrebbero essere dei dati che sono legati a delle compliance o dei legal hold. Mentre attingere a delle applicazioni o degli strumenti che consentono di estrarre i concetti e capire se all'interno di un documento, di un testo, di un email ci sono dei dati legati a delle compliance sicuramente consentono all'enterprise di attuare delle policy, di governance, di archiviazione del dato che risponde effettivamente all'efficienza e all'efficacia del dato stesso. Oggi le aziende riescono a estrarre delle informazioni dai loro archivi, dalle loro basi dati e farci delle analytics sopra. Questo è molto più vero nell'ambito dei dati strutturati con nuovi strumenti di business intelligence. Sul mondo del dato non strutturato ancora ci sono dei passi da fare anche se la tecnologia ti consente di estrarre i concetti che ci sono al loro interno. Sicuramente è importante l'evoluzione che c'è all'interno delle nuove professionalità che stanno nascendo, che sono quelle di business analyst, che sono le persone che poi devono andare a analizzare queste informazioni. Capì ha fatto nel 2009 uno dei progetti di Internet of Things, un falto a scala, che si chiama il sistema nervoso centrale della Terra, per cui sono stati raccolti in 16 nazioni tutta una serie di misure che vanno dalla crescita delle piante, degli animali, quindi immagini, video, per darli a incrociare con dati meteorologici, oppure di inquinamento e di umidità dell'aria e temperatura, per andare a capire quelli che sono gli impatti che poi l'uomo esercita nell'ecosistema mondiale. Quindi credo che in questo momento sia solo la fantasia che è un po' un limite a quello della generazione di nuove opportunità di business nell'utilizzo dei big data. Grazie a tutti.